La caldaia si è accesa, siamo in fase di accensione, nella quale ancora la fiamma è diretta, cioè questo bypass è aperto, la caldaia è accesa, quando arriverà in temperatura chiuderemo il bypass spumi, vediamo via. Alla fiamma inversa. La temperatura è a 60 gradi, aspettiamo ancora un po' per partire la pompa.